Pro o contro le plusvalenze? Questo è il tema di questo video e secondo me dobbiamo sdoganare questo aspetto qua Io sono favorevole alle plusvalenze e in maniera anche importante perché innanzitutto quando il Tor ha raggiunto il suo livello più alto nell'era Cairo coincide col periodo in cui ha fatto le plusvalenze, le plusvalenze più importanti in cui i bilanci sorridevano e in cui si incassavano parecchi soldi dalle cessioni perché se tu indovini 3-4 scommesse in un anno chiaramente sono 3-4 possibili plusvalenze Attenzione, le plusvalenze poi non devono essere fine a se stesse Questo è il vero punto, questo è il vero punto, quindi incassare sì, ma per rivendere, rivendere, incassare perdono sì, per rivendere, per comprare poi bene Questa è la parte importante, quindi vendere i propri giocatori forti? Favorevole ma a patto che si investe Poi, sono da vendere tutti? No, tutti insieme? No, non si può snaturare di netto una squadra Certo, ma un pezzo per volta, magari vendo un big, ne compro due, barra 3-2 e ricomincio aumento e miglioro il ciclo Oppure a fine del ciclo si ripulisce e si ricomincia tutto a capo Questo deve essere un circolo, innescare un circolo virtuoso rispetto a un circolo vizioso Quindi sdoganiamoci a questo aspetto che i giocatori forti vanno tenuti, non funziona così, non è più così Questa è una frase di un calcio negli anni 80, 90, anni 70, prima anni 2000, le bandiere non esistono più, questa è una classica frase fatta Ma vabbè, e questo è l'aspetto importante, sdoganiamoci a questo aspetto qua, non è che ne tengo e costruisco la squadra intorno Perché? Frendiamo l'esempio di Buongiorno per intenderci Uno, il Toro non gli può offrire i palcoscenici che le altre squadre le possono offrire, banalmente Due, non gli può offrire lo stesso stipendio Tre, è inutile tenere un giocatore contro voglia, questo giocatore ti gioca male Abbiamo visto un esempio non solo al Toro, ma anche tra altre squadre, il Toro l'abbiamo visto con un clou, eccetera Quindi, non bisogna, non bisogna avere la moda di vendere troppo, assolutamente no Non si vende al primo anno, appena uno fa bene, per esempio Bella Nova, alcuni non vogliono già venduto Io non sono d'accordo, magari due anni, se no diventiamo davvero l'Empoli, una squadra salvezza Ma vendere è fondamentale, nessuna squadra si può permettere di tenere i giocatori, costruirgli le squadre, i giocatori forse Forse tre squadre al mondo, il City, il Bayern, il PSG, basta Prendiamo esempio la Juve in Italia, arriva un'offerta monstro per De Ligt, lo vende Quindi, il concetto è vendere e comprare Bremer, quindi vendo De Ligt e compro Bremer Questo è l'aspetto più importante, bisogna evitare di vendere in blocco Cominciamo prima per snaturare la spina dorsale e anche cadere nell'eccesso Poi, Zapata a 14 milioni, io per i 13 non lo venderei perché Quest'anno è un giocatore che aveva 20-22 gol nelle gambe con una squadra dietro seria Una squadra volta all'attacco È vero che sono 14 milioni per un 38enne Ma non possiamo neanche cadere nell'accesso di vendere in continuazione Come dicevano prima E poi devi capire proporzionato sul mercato Cioè, non esiste, non esiste un giocatore che vale come Zapata Che puoi trovare a 14 milioni Non esiste assolutamente Dunque, in quel caso non ha senso venderlo Plus Valenze, sì, sdoganiamoci da questa cosa che i giocatori forti vanno tenuti Non vanno regalati, non vanno tenuti subito, sì, ma non vanno tenuti Il punto non è non vendere Il punto è comprare bene Questo deve essere il punto Comprare bene Bene